Una nube torbida mi ammanta. Fa molto caldo. Sto sudando e sono sicuramente in pericolo. La nube del tacchino si è formata qui, nel bagno, per avvolgermi e soffocarmi in un limbo semiliquido. Si è aperta una porta dimensionale qui nel bagno. Le forze telepatiche del tacchino mi risucchiano. Attraverso la porta. Le pareti della vasca da bagno, zona morta dove ha preso luogo la porta dimensionale, sono lisce. È impossibile trovare un appiglio per bloccare la mia caduta. Sono in trappola. E poi questa schiuma che mi orbita attorno non dovrebbe toccarmi. Tutte le bollicine, grandi e piccole, non sono altro che una moltitudine di occhi che mi ipnotizzano e annullano la mia forza di volontà. L'acqua è fumante, a una tale temperatura che sento le mie gambe fondersi. Mi sto sciogliendo in acqua. Acqua in acqua. Nessuno potrà mai ritrovarmi, neanche con un setaceo. Sto sprofondando.